Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore La Giffina è una donna piena di grinta e dinamismo che ha regalato nel corso degli anni grandi sorrisi ai suoi ammiratori Cristina 40 ha raggiunto la fama con il famosissimo programma Non è la Rai, quando era giovanissima e poi per lei si sono aperte le porte del successo Dopo molti anni, la ritroviamo come concorrente all'interno del GF VIP 7 e qualche giorno fa si è lasciata andare ad una confessione riguardo la sua vita privata che ha sorpreso gli altri inquilini del reality Cristina 40 si è lasciata andare.Cristina 40 è stata un volto di spicco della televisione anni 90 Cominciò con Gianni Boncompagni a domenica in quando aveva soltanto 17 anni e poi sempre assieme a lui attrodò a nonne e la Rai Volto apprezzatissimo del format media set guadagnò la fama con il suo sorriso e il suo entusiasmo Punto Negli anni successivi, ha ricoperto numerosi ruoli in tv, come la velina sul bancone di Strescia la notizia accanto ad Alessia Merz Si è occupata di programmi sportivi per ben cinque stagioni e ha lasciato il mondo dello spettacolo per mettere su famiglia Durante il percorso al GF VIP 7 si è aperta con Gnocchi ed Edoardo e ha parlato della sua vita sentimentale Ecco chi è il suo ex.Cristina 40 ha raccontato un particolare inedito vero che il suo primo matrimonio fu a 19 anni Lei e il compagno scelsero di sposarsi perché i genitori di lei non erano d'accordo sul convivere Il matrimonio è durato soltanto tre anni ma ha riferito ai vipponi che se lo avesse incontrato, soltanto dieci anni dopo, sarebbe stato il suo per sempre Non è stato il suo unico matrimonio, nel 2000 infatti, ha sposato Matteo De Stefani noto imprenditore Dal loro amore è nata Aurora che è la gioia di Cristina 40 Purtroppo però anche questa relazione non è andata a buon fine e si è conclusa Una vita sentimentale non molto fortunata ma che l'ha donato la gioia più grande al mondo, quella di essere mamma Ora ha deciso di intraprendere questa avventura al GF VIP 7 stupendo i fan che non l'hanno mai dimenticata Auguriamo alla splendida Cristina 40 una meravigliosa avventura nel reality e vogliamo dirle che è davvero strepitosa Auguriamo alla prossima Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente